Salve a tutti, bentornati in un altro video. Come state? Mi piace il mio trucco, non so se si vede bene, ma la luce mangia un po' i colori, passatemi il termine, però si è andato molto molto bene, sono soddisfatta di me stessa, soprattutto del eyeliner, è venuto benissimo. Comunque stamattina ho fatto pochissima spesa, per quanto riguarda la roba da frigo, io vi metto le fotografie con i relativi prezzi, io vi metto i prezzi praticamente per tutto e poi vi faccio vedere il resto che ho comprato. Grazie Allora, praticamente ho preso 3 bottiglie di olio farchioni, io avendo la Fidelity Card li ho pagati soltanto 2 euro, 2 euro a bottiglia, quindi ottimo. I panini soffiati, ho preso 3 pacchetti di salviettini in Apisan, igienizzanti al limone che io adoro, uno l'ho già aperta perché l'ho dovuta usare, quindi ce ne sono solo 2 qui dentro praticamente. Poi, vaschette d'alluminio, praticamente pirottini di alluminio, Selex, il preparato per pancake di avena, poi le pile, queste qua così per le bilance, Poi, pirottini piccoli in carta, poi la carta forno cookie da 50 metri, e poi ultima cosa, il calendario dell'avvento di Kinder, che poi spacchetteremo qui su YouTube. Allora, al momento è tutto, spero che questo mini video spesa vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia, come al solito non dimenticate di mettere like al video, commentare, iscrivervi al mio canale, attivare la campanella per le notifiche, così da non perdere nessun altro video, aggiungetemi sui social, Instagram e Facebook, soprattutto seguitemi su Instagram perché lì metto video proprio in tempo reale, senza montarli, proprio costi attimi di vita reale, faccio pure le mini svuota la spesa là, quando è veramente molto molto piccola, spacchettamenti improvvisi, insomma, seguitemi anche di là perché lì pubblico contenuti che qui non pubblico, quindi io vi mando un bacione, ci vedo al prossimo video, ciao!